25 le tonnellate di rifiuti solidi urbani in meno conferiti in discarica dal comune di Sutera pari al 30% rispetto lo scorso anno. Un risultato positivo raggiunto grazie all'ingentivazione da parte dell'amministrazione comunale della raccolta differenziata dei rifiuti. Nel corso dei primi quattro mesi del servizio i 1500 cittadini censiti in 460 utenze hanno raccolto complessivamente 8451 sacchetti suddivisi in 2781 di carta, 4359 di plastica e 1341 di vetro e alluminio per un totale di 19,351 tonnellate di rifiuti correttamente differenziati. Sì devo dire che il bilancio a distanza di quattro mesi per quanto riguarda la raccolta differenziata è un bilancio molto positivo per il comune di Sutera. Quattro mesi fa abbiamo inaugurato con l'assessore all'industria il nostro nuovo centro di raccolta e da allora era partito questo nuovo sistema che si chiama 1-1-1 è una raccolta differenziata porta a porta e oggi abbiamo dei risultati che consideriamo eccellenti per quanto riguarda questa raccolta. In quattro mesi siamo riusciti quasi a quadruplicare quelle che erano le percentuali di raccolta differenziata che facevamo negli anni precedenti. devo dire che Sutera la raccolta differenziata non è una novità perché anche negli anni precedenti noi l'attuavamo però con risultati che non riuscivano a superare le medie che ci sono in altri paesi. Noi non riuscivamo a passare il 10%. Adesso noi abbiamo raggiunto dei risultati diciamo così ottimi siamo a più del 25% per quanto riguarda la raccolta differenziata. Tra l'altro noi raccogliamo semplicemente la plastica, la carta, il vetro e l'acciaio. Tutto ciò a vantaggio della popolazione perché noi abbiamo fatto non tanto uno scondo ma una premialità a chi fa la differenziata ovvero nel bilancio che abbiamo provato nel mese di settembre noi abbiamo messo una quota e questa quota sarà divisa a tutti i cittadini che fanno la raccolta differenziata in base alla quantità di rifiuto differenziato diciamo così converito. Quindi viene pesato e di conseguenza viene praticamente valutato con degli indici particolari e quindi noi daremo questo sconto diciamo così. non abbiamo voluto fare una scondistica sulla tariffa perché questo ci avrebbe creato problemi nei bilanci successivi perché poi il costo totale sarebbe stato modificato da questi numeri. Per cui abbiamo preferito mettere una quota e dare questo premio ai cittadini virtuosi.